E' parer comune ormai che al di là di qualche tentennamento tiene completamente la posizione di Amerigo Panico. Qualcuno facendo una battuta diceva in aula sembra un computer, nel senso che è abbastanza preciso nelle sue ricostruzioni malgrado siano passati un bel po' di mesi. Potrei rispondere dicendo che è un matematico, è quasi un genio sotto questo punto di vista. Sì, il mio lavoro è agevolato dalla sua precisione e puntualità. Spero che continui a tenere anche nel corso degli ulteriori controesami. Per quanto la vicenda della Commissione di Accesso cammini su binari paralleli rispetto a quelli della vicenda processuale qui a Nocere inferiore certamente vi conforta che le posizioni in parte denunciate da Amerigo Panico siano state riscontrate come sussistenti da una commissione di tecnici terzi che da quello che abbiamo potuto capire si è basato sulle carte e non sulle dichiarazioni di Panico stesso. Questo per noi è un vantaggio, o meglio per la posizione della parte civile e quella della Procura è un vantaggio perché ci sono soggetti terzi, amministratori terzi che sono riusciti a verificare la fondatezza delle accuse di Panico e di altri soggetti nonostante c'è l'assenza delle stesse dichiarazioni. Chiedo scusa la contraddizione, sono anche stanco, ma comunque la relazione di Accesso stavolta avvalora quelle che sono le tesi accusatorie. Ma io non sono mai stato nessuno della difesa, né io né il collega Diddi abbiamo invocato, ci aspettavamo chissà quale crollo, non era nelle nostre aspettative. La nostra aspettativa piuttosto viceversa è accertare i fatti, quindi uno dei testi fondamentali per accertare i fatti è Panico e noi lo abbiamo utilizzato in questo modo, abbiamo cercato attraverso il controesame di Panico di fare quelle puntualizzazioni che per noi sono fondamentali, sono importanti e poi la nostra difesa è stata anche caratterizzata da una copiosa produzione documentale, quindi è un processo che si va svolgendo su vari fronti, su quello documentale, su quello principale della realtà della prova. Ci sono vari elementi che ritengo siano tutti assemblati almeno fino a questo momento in modo abbastanza equilibrato. C'è un passaggio che è in parte tecnico, che però io vorrei spiegare in maniera semplice ai nostri telespettatori perché è la seconda volta che emerge e mi pare sia centrale rispetto alla prosecuzione delle udienze e cioè la questione relativa a queste ormai famigerate intercettazioni che non sono state trascritte perché la procura le ha ritenute non rilevanti e che invece proprio la difesa di Alberico Gambino chiede di poter utilizzare perché invece sarebbero probanti. Allora intanto spieghiamo perché non sono disponibili queste intercettazioni. Le telefonate sono disponibili, io l'ho già detto in più momenti, l'elemento probatore è acquisito. La trascrizione non è disponibile? La trascrizione si può fare in ogni momento sicuramente, ove sarà necessaria farla. Noi abbiamo posto un problema all'udienza che aveva come tema la decisione di valutare quali trascrizioni andavano rese prima e il GIP ha ritenuto di trascrivere una parte e non tutte. L'altra parte, come ho già detto, la possiamo sempre trascrivere quando sarà necessaria e quando ritenevamo opportuno trascrivere. Il problema non si pone in ordine alle trascrizioni per essere più precisi. Il problema è rispetto alla possibilità o meno da parte della difesa di leggere alcuni passaggi dei brogliacci ma non delle trascrizioni. Diciamo che abbiamo cercato di fare emergere quella che è sempre stata la nostra convinzione e credo che quello che Panico ha offerto in questa vicenda non è proprio la verità che noi riteniamo vada in altra direzione. In ogni caso un Panico che pur tentennante conferma in aula le cose che aveva da dire. Certo poi sulla congruità di questi tentennamenti sarà la Presidente del Collegio a decidere e a valutare. Però un tentennamento c'è stato. Perfisco dare un giudizio definitivo quando avremmo completato il riesame perché la mia convinzione, la mia idea su questa persona offesa è diversa. Lui sta cercando di reggere ma per quello che è possibile, perché ormai è storia processuale, credo che il Tribunale ne abbia avuto conoscenza. Però credo che qualcos'altro ancora vada chiarita, senza ombra di dubbio.